Benvenuti a tutti all'episodio numero 15 per Dying Light 2 E' appurato che il gioco non ha capito che io la missione doppio guaio l'ho fatta L'ho fatta tre volte, l'ho fatta quattro volte Comunque ogni volta me la ridà questa missione si è buggata e rimarrà così per sempre E' la missione quella che non so se in una parte di video c'è Comunque in cui bisogna fare parkour e seguire il tizio che ci aspetta già però al posto dove bisogna arrivare Tutte le volte che si bugga quindi sta bene così come tante altre cose in questo gioco Andiamo avanti We did it! Cos'è Sora che vince all'Olympus Coliseum? Cioè non capisco... Non capisco stessa colonna sonora, non la capisco proprio Non la capisco Comunque dovremmo essere arrivati nell'altra città Dopo che Waltz si è rivelato essere sostanzialmente un mutante Lo stesso forse anche noi, visto che gli esperimenti li ha condotti su di noi Ci ha inseguito, siamo riusciti a fuggire grazie all'aiuto di Lohan Che però è la stessa persona che il tizio che ci ha dato la chiave del grece ha detto di cercare Quindi per fortuna sostanzialmente l'abbiamo trovata Come sempre la luce cambia in base a come deve fare il filmato Dovremmo aver raggiunto la città nuova In vision Sì, è vero che io vengo qui quando sono piaciuto Molto, credi me Guarda, Aiden, sono tornato Sono tornato proprio tornato Voi vengono, Aiden? Voi vengono? È bello! Non mi 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 non! Andiamo, è diventato Alla, la via è diventato E? Si vedo Dania, sono a un punto di guarda, è molto di spettacare Cosa è davvero il promotiono? Diffrata per i bobè di 15 anni? Non so, non so Ma il dobbiamo chavarare Alla ci metta da canteano e parlassiamo Ho è un portoglio che non ti ha invito a réflare Lo so, l'uстрato Con il muoio di fiore O perciano a goare a barri Mentre scopavi le birre e sparavi alle bariste. E li va via nel chiaro, no? Eh. Questa in realtà è dove abito io. Vabbè è scattato... È scattato... È scattato il crebuscolare nel giorno. Lui vuole andare al Fisciai per chiedere di mia. Volando. Ma così, dubbido, non l'abbiamo mai fatto, ma... Prima di quadrato per il parapendio in aria. Muovi avanti indietro per sollevarsi. Prima di un insomma vigore. Che consuma vigore il parapendio? Il cazzo vuol dire? Vabbè, ci abbiamo il parapendio. Siamo abbastanza contenti. Completamente anti-intuitivo. Completamente morto. È mortissimo. Ok. Non è che proprio mi... Ho punti abilità da spendere? Ho punti abilità da spendere, ma l'avevo già fatto però. Ho fatto questo. L'abbiamo usato. Non è che sia andato benissimo, ma... Non è che sia andato benissimo, ma... Condotti di ventilazione. Possibile, va bene. Direttamente al parapendio che sei andato al condotto e tieni premuto per lanciarti. Ok. Forse ho capito. Forse no. Però forse ho capito. Ho premuto... Dove ho capito che devo prendere ovviamente giù. Ma poi mi spiegate come quello del mulino funziona così. Sì, questi qua perché funzionano? Come funzionano? Come funzionano? Perfetto, ti ho capito. Ok, from here it's not far at all to the substation. Go there and activate it. On my own? You're a big boy. Ma ci conosciamo da cinque minuti, ma che cos'è? Va bene. Sì, dove è che dobbiamo andare, però? Ok. Ma non ci sono i zombie, sì. Bravo, quello che stavo a pensare pure io. Ah, ci sono, ci sono solo che si caricano dopo. No, 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 no. magari, un giorno la cosa di dare i calci così al volo non è che mi piaccia molto quindi ma è una da fare non ci dà punti va bene non darci punti allora lui lo detected qualcosa mi dice che è qua dentro mostrone dietro di noi niente da fare non si apre braccio dentro il cinturone ok ma credo che lui non si prende l'arma in mano ogni volta che vi dà gente vabbè ma mezza mad maxata vuole uno fare cosa si fa l'idea del calcio volante ammazzo tutti l'idea del calcio volante a destra e sinistra mi fa proprio ridere quindi non lo userò mai qual è il senso di volare a calcio in faccia a tutti se potevo usarli ben cosa dice il proiettile all'uomo che è stato sparato che poi è tradotto malissimo ma chi li scrive sti dialoghi apparatus ma ha già detto ma come va bene va bene è giallo no non posso rampicarmi nonostante sia giallo vorrei dire che mi rampicherò da qui e poi qui e poi qui è giallo come è la cosa? qualcuno era in un grande ruolo quando l'avevano la linea mi sembra che il circuito principale si tratta di un ruolo trovi un cable e colleghi la source di potenza con il trasmettore questo dovrebbe ristrarre il circuito fornisco energia a vari oggetti della zona come scatole di derivazione e un segno per i negozi va bene ma io voglio raggiungere il piano di sopra per prendere la scatola ma qua non posso fare nulla è su o giù? su no è chiusa dall'interno quindi voglio prima i contenitori poi tutto il resto come giù è giù l'ho visto come ci arrivo? così io lo odio sì io sono sull'interno della scatola cercando di collegare la potenza con il trasmettore non c'era un pezzo di caccia in qui dopo tutto sicuramente ti fai farlo? ho conosciuto un po' di P.K. che non potremmo arrivare alla scatola loro quindi è per questo che non mi ha chiamato tu dovresti vedere decidere quale mi piace tu sai che ti costa certo? i peacekeepers sono bene ma non sono il tipo che aiutare da la gentile di loro non sapere non sapere se non fosse per loro ma uno va a uno ma devo cambiare due come lo portiamo su? ma questo è tre vabbè tre lo portiamo su da qui anche se detto questo voglio il contenitore allora il contenitore il contenitore ho incastrato tutto ho distrutto tutto ok allora voglio questo contenitore su allora questo è il 2 2 da questo lato ah ma era molto più semplice l'altro 2 sta qua però non so dove sta io come arrivo a prenderlo entro lì entro lì intanto prendiamo il cavo il contenitore Ok, grazie. Grazie, credo. Adesso si sta... Tre ore per cercarla e poi sta là davanti. Cioè, va bene, va bene. E' un vinto che bisogna fare qualche... Qualche scalata, arrampicata, qualche cosa, invece niente. Vabbè, molto bene, abbiamo un altro potenziamento. Tra l'altro ce n'abbiamo anche più di... Cioè, abbiamo uno, poi ce ne danno un altro, ma se ce n'abbiamo ancora uno. E direi di fare comunque sempre il vigore. A chi la diamo? Ai sopravvissuti? O ai pacificatori? Andiamola ai sopravvissuti questa, anche se una l'abbiamo già data ai pacificatori. Andiamola ai sopravvissuti. Andiamola ai pacificatori. Che almeno... Vediamo un attimo, almeno di arrivare a un certo punto in cui ci sarà un... E' un punto abilità, parkour, salto su sporgenza. In cima più velocemente, aumenta la velocità quando ti muove fra ostacoli, l'altezza da cui puoi cadere. L'altezza da cui puoi cadere. Sì. Gente libera? E' comunque governata da gente, poi manco li conosci. E' comunque governata da persone che magari le mandano a morire e basta perché devono combattere le battaglie. Non è che poi è libera la gente. Gente libera. Che poi anche qui, se me l'avessero spiegato, se me l'avessero reso interessante e intelligente, uno avrebbe anche saputo decidere, che non si può decidere, non si sa decidere. Ma direi che scendiamo. E andiamo alla missione. Sta su? Ma sta lontano. Poi ovviamente off-screen mi vado a fare tutte le cose del caso. Va bene. Sa non piogere. Un altro contenitore. Un altro contenitore. E' qua dentro sicuramente, ma a parte che poi da sopra devo un attimo vedere un po' tutto quello che c'è da prendere. No, ma non trampicare. Ma che... ma guarda. Grazie per ottenere il potere, Aiden. Ne abbiamo bisogno per le UV. Grazie per aver regalato un'altra clip. A presto. E siamo al Fisciai. E siamo al Fisciai. Abbriaco, 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 Abbriaco 1. Abbriaco, 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 Abbriaco. Abbriaco, 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 Abbriaco. Non si può fare. E' qua. A presto. Adesso invece di chiedere di mia chiediamo di Luan. Hai visto Luan? Luan? Uh? Adesso, sei vista adesso, adesso. Oh, perciò. Ti chiedi come... oggi? Scusa. Dio si è messo in tutto l'escociamento. A presto, tutti. È un miracolo! Abbriaco, Abbriaco. Se mi chiedi, è la nostra pazza. ci sono un po' di chiudere. Cosa. È un po' di chiudere. È desolato, hai visto a Luan? Cosa che vediamo di una conversazione? Ho solo trovare un amore. Luan? È assicurato, sai cosa fare se vado al suo tigre? Elena, che es quito su braccio Elena Lui c'ha la stessa faccia di lei? Karl Sono tutti uguali No, le carri ho un pizzetto No, le carri ho un po' Perchè nessuno è serio? Non me ne frega di ste cose Mettici la trama Non c'è uno di serio? No, le carri ho un po' Ma le carri non potrebbero farlo 15 anni ha fatto Atrofi muscolare Non c'è uno di più Ma perché non chiedo di mia? Ci sto Non c'è ça Va bene Non c'è uno di più Non è più di nessuno Quindi Abbiamo dato la cosa ai pacificatori Perchè se ci inculano i sopravvissuti Almeno ci abbiamo i pacificatori Ollè Frank 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 E' me Wake up Wake up Ma sta bene Ma sta bene Che è ancora viva ovviamente Ho fatto Ho fatto un'altra cosa Ora Questo è Aiden Ha il G.R.E. Access key Waltz ha usato Per turnare l'elettricità In town Work in G.R.E. Key E' un po' Che Show it to him Where'd you get it? From one of Waltz's men So you want a Waltz's men too? Hey Easy Frank Ma è tutto Tutto scritto A casino Grazie a Frank Per favore che c'è Frank In mezzo a un briaco Lui gli dà le cose Vabbè Ok I'll tell you Ma questo è simpatico a pelle Yeah Perché E' un Psyco E' Psyco In la head That's your Holy Grail And Ark of the Covenant All in one Luan Happy? Aiden Right? Come on Gaby You and Luan Can't get the fuck out Of my face now I've got more important Things in my mind Fortissimo Sto Franco Grandissimo It would've worked If that fucker Had showed up At the TV station You were right Great Ravik Fucking traitor Without him We were like Kids with slingshots Going up against tanks We're not finished here Frank This contains info On someone I'm looking for too I need to know How to read It's a fucking key Not a diary You can use it to open doors Start the electricity But it's useless on its own You need some place to stick it And before I tell you where you can stick it Get out You'll give them your fucking head I don't know 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 You fucking bastard Why did you come back For this mission? Everything went wrong So many people So many wonderful people But the double He's also brave So many people The TV station Why the fuck Would Walt Turn on the power? Don't ask me I want a clue But if you're looking For the GRE database You need to find a terminal To access it But hang on I have no idea Where one could be And those who knew Are Probably long dead But The good news is We'll probably Be there ourselves But This is so Simpatico Mi piace il doppiatore Mi piace il tono De buce Che c'è Quindi Now Get the fuck out Of my quarters Fucking drunkard You hear that? Fuck It's one of the quarters I matti No No I rinnegati Eh ma a me Ci hanno dato pure L'arco Attenzione Me lo stavo Quasi Dimenticando Ma le frecce Le posso fare No 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 Bene Non levo niente Temeno Mani nude Cioè Questi hanno mannato Più gente Dei pacificatori Che stavano Da qua Ovvero che effettivamente Era un contingente Quello dei pacificatori Ma dieci persone L'altra volta Erano veramente poche Quest'altro Gli sta a menà Gli sta a menà Con l'arco Mentre loro gli emina Ma cosa vuoi fare? O gli e tini Subito la freccia Vado Cerrato il niente Cerrato il niente Cerrato il niente E se riparte Quasi mi dice L'ho sbagliato tutto Quasi tutto Ahia Ahia Ma esisto Solo io Entra a sto posto Ma come funziona Dove sta il cannone? No 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 Lo sapevo Che dovevo saltar prima su quell'altro Io avevo il tasto per, dovevo vedere come si fa per deflettere la freccia E intanto questo si spegne, ciao E te pare, faccio tutto io Oh solo io resisto eh sei il capo dei pacificatori tutti insieme beh questa è la puntata più importante se fossero per te si non ci sono più più sarebbero come on come on search the area ma sono ho una domanda siamo cercati trovare una database la maggior parte del G.R.E. la maggior parte del G.R.E. ha stato morto per anni cosa per questo è necessario con il vostro con il vostro di città il vostro che hanno il nostro qui Aiden e ando 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 e ando 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 non ci facciamo aiutare però dobbiamo partire con la verità se no adesso ci odia però si ci entro pure io si sì 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 io ho trovato Waltz ma è overpowered us e escapato cosa? dove? in le tunti near la planta Waltz decimato Ader's squad e non mi è riuscito a escapare non dovrei lasciare così ma Cosa sono? Ordure, per lui e gli altri uniti. Passate, ragazzi, andiamo! Vieni fuori, parliamo. Molto bene. Devo dire che questo insieme di personaggi, di questioni e di situazioni è molto interessante. Si vede subito che qui la questione è molto più sofisticata di quella che era dall'altra parte. Mi dispiace solo che ci siano delle risposte limitate, ci siano la limitatezza generale delle questioni da trattare e puoi dire solo mezza cosa e non puoi argomentare più di tanto perché non hai tanto spazio per parlare. Avviene tutto un pochino freneticamente. Adesso è arrivato Jack Matt, è arrivato quell'altro. Cioè è tutto molto rapido, non c'è tanta possibilità di discussione e di mettere in prospettiva le cose. Però sicuramente siamo ad un livello molto più interessante rispetto a quello che c'era prima e se la qualità della trama dovesse comunque aumentare o mantenersi abbastanza interessante da qui in poi un minimo si riprende anche se però mi sembra che a livello almeno narrativo non sia così ben scritta. Comunque, come al solito, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! 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 Ciao!